Una serata il cui titolo è Ischia, isola del dialogo e della gentilezza, protagonista nella Magna Grecia, civiltà dell'essere. A proporla è stata la FIDAPA. Come nasce questa iniziativa? La FIDAPA è un'associazione femminile presente in tutto il mondo, Federazione Italiana Donne, Arti, Professori ed Affari e si occupa di promuovere la cultura, gli affari, l'arte, così come è nel suo titolo, nelle donne, ma non soltanto, chiaramente la cultura in tutte le sue forme. E grazie alla professoressa D'Amico, che ha avuto questa splendida idea di coinvolgere i giovani ischitani in questo progetto sul dialogo come Ischia, isola di gentilezza, isola di accoglienza, che risale, chiaramente, come tutti sappiamo, agli antichi greci. E lei se ne è occupata, lei è stata bravissima parlando con i professori, con la preside che si sono messi a disposizione del liceo Buchner e quindi abbiamo avuto questa bellissima collaborazione e questa partecipazione di tanti ragazzi, ben 36, che ci hanno proposto questi loro lavori su questo tema. Eravamo un po' così mortificati, a volte per dei comportamenti, diciamo, poco raffinati che sull'isola si riscontravano e abbiamo pensato che gli unici, l'unica categoria che veramente potesse riscattare questa situazione fossero veramente i giovani, giovani del liceo. Noi abbiamo scoperto in questo liceo delle eccellenze nazionali straordinarie ed è stata accolta questa proposta che poi non è altro che un messaggio culturale che vale non soltanto per Ischia, per i giovani di Ischia, ma vale un po' per tutto il mondo. Ischia è conosciuta nel mondo, questo messaggio deve essere proposto ed è stato accolto ed esposto da tanti giovani ischitani. Forse ci sarà una sorpresa perché forse ci sarà qualcuno che suonerà anche. Abbiamo avuto due patrocini morali, sia dal sindaco di Porto di Ischia, il dottor Ferrandino, che dal sindaco di Forio e dall'assessore alla cultura e al turismo di Forio. Quindi noi vorremmo la partecipazione ancora più ricca di tutti gli altri sindaci, in maniera tale che tutti i giovani di Ischia rappresentassero una forza vera per tutta l'isola. Ricordiamo l'orario, ovviamente invitiamo tutti. Sì, sì. Dunque, alle 18 e 20 saremmo molto lieti avere tutti, siete invitati, sono invitati. E poi volevo dire che non c'è una premazione a prima e a seconda perché sono stati tutti bravi, sono tutti bravi, solo abbiamo ritenuto di dare un omaggio a quegli elaborati che si sono distinti.